Troppo buio, vero? Così va meglio, direi, però c'è un'ombra qua che non mi piace. Ora però c'è uno strano riflesso qui. Accontentatevi. L'importante, secondo me, è migliorare, no? Nella qualità dei video, nella qualità della luce, così come nelle lingue, no? Non bisogna avere... non bisogna pensare di diventare perfetti subito. È importante che ci sia un progresso. Ciao a tutti, benvenuti su Podcast Italiano. Siamo qui un'altra settimana con un altro video. E la domanda che ti o vi voglio fare oggi è questa. Pensi di essere bravo in italiano? Forse ti dovrai ricredere, dovrai cambiare idea. Perché dico questo? Dico questo perché quando io imparo le lingue straniere c'è un tipo di attività che mi riporta sempre sulla terra, no? Mi riporta sempre sulla terra perché magari a un certo punto il mio ego inizia a gonfiarsi, inizio a pensare di essere molto bravo. Dico capisco tutto, capisco i podcast, capisco Podcast Italiano o l'equivalente di Podcast Italiano in un'altra lingua, capisco i video su YouTube. E poi dico, ok, proviamo a leggere un romanzo. Prendo il mio romanzo che per me è il mio tablet dove leggo... dove leggo e inizio a leggere. Tra l'altro, guardate, ho appena distrutto il mio tablet. Ho distrutto il vetro del tablet è una cosa molto triste perché non mi era mai successo. Apro il mio tablet, prendo un libro, inizio a leggerlo e dico... Ok, questa frase... questa frase più o meno l'ho capita. Quella dopo... non l'ho molto capito. Che significa questa parola? Fammi cercare cosa significa questa parola. Ok, vabbè, proviamo ad andare avanti. No, non capisco nemmeno la frase dopo. Dopo tre pagine mi rendo conto... ma a me non piace leggere. Cioè a me non piace leggere in questa maniera. Per questo vi sto dicendo che questa è un'esperienza che ti riporta sulla terra, nel senso leggere un romanzo è la cosa più difficile che si possa fare in una lingua straniera. Voi sapete, nelle lingue ci sono tutte le attività passive, cioè la lettura e l'ascolto e ci sono le attività attive, che sono il parlato e la scrittura. Ecco, la certificazione che avete raggiunto un livello davvero buono nella fase passiva è leggere un romanzo dall'inizio alla fine. E io vi consiglio di farlo, ma con alcune riserve. Innanzitutto dipende dal vostro obiettivo. Qual è il vostro obiettivo? Se volete raggiungere un livello buono, medio, per poter comunicare con le altre persone in Italia o su Skype, vi bastano due anni. In media due anni, ma già dopo un anno potete iniziare a cavarvela. Se volete leggere romanzi, vi servirà un tempo superiore. Adesso è difficile dirvi quanto tempo, dipende dal romanzo. Probabilmente più di due anni, a volte anche cinque anni, a volte anche dieci anni. Io, sì, capisco bene i romanzi in inglese, ma studio l'inglese tipo da tredici anni, quattordici anni, qualcosa del genere. Vi consiglio di prendere qualcosa che non sia troppo difficile e di vedere quante parole non capite in una frase o in una pagina. Se ci sono trenta parole in una pagina che non capite, forse non è un buon segno. Se ci sono cinque parole che non capite in una pagina, è già meglio. Prima ancora di iniziare a leggere romanzi, iniziate a leggere articoli su internet. Io vi consiglio di leggere gli articoli del sito Focus. Sono articoli su temi come scienza, tecnologia, a volte storia, ambiente. E sono molto molto corti, due paragrafi, tre paragrafi, li potete leggere in dieci minuti massimo. Come andare a correre? Non è che potete andare a correre e fare un'ora e mezza, fare venti chilometri. Dovete iniziare da corte distanze. Se invece mi capite benissimo, capite al 99% podcast italiano, capite magari anche podcast per madrelingua. avete un livello davvero elevato e so che ci sono persone tra di voi che hanno un livello davvero elevato, allora la mia sfida per voi è se non lo avete mai fatto, leggete un romanzo in italiano. Sì, leggete un romanzo in italiano e allora a quel punto mi potrete dire che siete bravi in italiano, che siete studenti avanzati d'italiano. Sì, è un po' una provocazione che vi faccio, ma io penso che se non avete mai letto nemmeno un romanzo in italiano, non potete dire di essere studenti avanzati. Quest'idea l'ho un po' presa da Steve Kaufman, che ho anche intervistato in passato. E ci sono anche romanzi che non sono troppo complicati. Per esempio è famoso il romanzo di Jun Palahiri in altre parole. Penso che ne abbiate sentito parlare. È una scrittrice americana che ha deciso di scrivere in italiano nella sua carriera e un libro che ha scritto racconta proprio della sua esperienza con l'italiano attraverso metafore, attraverso, diciamo, immagini molto molto interessanti ed è molto interessante come libro. Alcuni classici che molti miei studenti leggono sono per esempio Io non ho paura di Niccolò Amaniti. Adesso io personalmente sto leggendo il famosissimo L'amica geniale di Elena Ferrante perché non l'avevo mai letto, sinceramente. So che c'è un hype, un enorme entusiasmo nei confronti di questo libro da qualche anno. Oramai HBO ha fatto una serie e quindi volevo leggerlo. Effettivamente è abbastanza bello, mi sta piacendo molto. Racconta di... praticamente di una ragazza e la sua amica nella Napoli degli anni Sessanta, o meglio, la periferia di Napoli degli anni Sessanta. So che molti di voi l'hanno già letto, però può essere anche questa una buona scelta per iniziare. Vi leggo un estratto del primo capitolo, così potrete decidere se è troppo complicato per voi oppure se è abbastanza facile per voi. Non capirete tutto, sicuramente, ma l'importante è capire quanto siete disposti a non capire. Una parola su dieci, una su venti, una su trenta... dipende da voi. La volta che Lila ed io decidemmo di salire per le scale buie che portavano gradino dietro gradino, rampa dietro rampa, fino alla porta dell'appartamento di Don Achille, cominciò la nostra amicizia. Mi ricordo la luce violacea del cortile, gli odori di una serata tiepida di primavera. Le mamme stavano preparando la cena, era ora di rientrare, ma noi ci attardavamo, sottoponendoci per sfida, senza mai rivolgerci la parola, a prove di coraggio. Da qualche tempo, dentro e fuori scuola, non facevamo che quello. Lila infilava la mano e tutto il braccio nella bocca nera di un tombino, e io lo facevo subito dopo a mia volta, col batticuore, sperando che gli scarafaggi non mi corressero su per la pelle, e i topi non mi mordessero. Lila si arrampicava fino alla finestra, pian terreno della signora Spagnuolo, si appendeva alla sbarra di ferro, dove passava il filo per stendere i panni, si dondolava, quindi si lasciava andare giù sul marciapiede, e io lo facevo subito dopo a mia volta, pur temendo di cadere e farmi male. Scommetto che molti di voi non avranno capito diverse parole, probabilmente non sapete che cosa vuol dire violacea, una luce un po' viola. Alcuni di voi non sapranno che cosa significa infilare, infilare la mano nella bocca nera di un tombino, ovvero c'è un tombino, quelli che avete per strada, infilare significa metterla dentro. Probabilmente non sapete cosa significa s'arrampicava, ovvero to climb. Probabilmente non sapete cosa significa si dondolava, ovvero questo. Sapete la cosa più fastidiosa? È che tutte queste parole, dondolarsi, arrampicarsi, sono parole che non servono così tanto, che non usiamo quasi mai. Sono parole a bassa frequenza. Tuttavia un romanzo ha molte più parole a bassa frequenza di un podcast come il mio, oppure di una conversazione con un amico. Ed è difficilissimo impararle, perché sono appunto parole a bassa frequenza, quindi le vediamo raramente, magari le vediamo una volta ogni sei mesi di apprendimento, sei mesi di lettura. Un'altra cosa è il passato remoto, questo tempo mistico che tante persone non sanno se ha senso imparare. Decidemmo, cominciò, mi lanciò uno sguardo, si diresse verso la palazzina, mi gelai di paura. Io vi consiglio semplicemente di iniziare a disporvi al passato remoto, di iniziare a riconoscerlo, e pian piano vi abituerete anche al passato remoto, a questo fu, a questo ebbe. Non serve impararlo perché raramente lo utilizzerete nella vita di tutti i giorni. Se avete capito buona parte dell'estratto che vi ho detto, secondo me dovete leggere. Un consiglio. La cosa buona dei consigli è che potete fregarvene. Grazie per aver visto anche questo video che è stato reso possibile dal mio club, il mio club su Patreon. Patreon è un sito dove voi potete sostenere creatori di contenuti come me ricevendo dei bonus in cambio dei contenuti esclusivi. Io al momento ho quattro categorie, diciamo quattro livelli di supporto che potete andare a vedere, potete ottenere materiali esclusivi come un podcast esclusivo, oppure le trascrizioni delle riflessioni senza trascrizioni, se siete ascoltatori del mio podcast, oppure la trascrizione PDF di questo video, quindi non dovete leggere i sottotitoli, ma potete stampare l'intero file PDF e seguire tutto quello che dico in questo video nel PDF, oppure l'audio di questo video, così non dovete risentire questa odiosa musica che alcuni di voi odiano. Più persone mi supportano con una somma mensile, più io mi convinco che abbia senso intraprendere questa strada. Grazie ancora per l'attenzione. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao. Qualcuno di voi forse vorrebbe sentire un ASMR di podcast italiano. Beh, questo non è il giorno giusto, dovrete aspettare ancora. Ma secondo voi sono biondo? Scrivete nei commenti di che colore sono i miei capelli, perché lo scorso video varie persone mi hanno scritto ma Davide non sei biondo, tipo come se fosse una sorta di club al quale io non ho il diritto di entrare perché non sono abbastanza biondo. Però non penso nemmeno di essere castano, cioè guardate. Ah, e poi un'altra cosa. Sì, questa è la mia carta d'identità, perché in Italia molte persone hanno ancora questa schifezza di carta e non una tessera come nei paesi civilizzati. Guardate qua che c'è scritto colore biondo scuro, quindi la carta d'identità parla chiaro, non mi potete dire più che non ho i capelli biondi.